I rappresentanti della RSU, funzione pubblica della CGL, hanno presidiato ieri sera l'aula consigliare Falcone e Borsellino con bandiere e striscioni fino alla conclusione del Consiglio Comunale. Spicavano tra il pubblico con le loro magliette rosse con su scritto tutto sulle nostre spalle. La protesta è scaturita per il perenne stato di disagio economico subito oramai da anni dai dipendenti di Palazzo Europa. I lavoratori soffrono di questo disagio. Oggi siamo preoccupati come lavoratori, ma siamo preoccupati anche come cittadini. La situazione finanziaria del Comune di Capodornando ci fa veramente un po' preoccupare. I dati che anche in Consiglio vengono stasera elencati non fanno besperare. Non siamo solo prestatori di lavoro, ma anche prestatori di soldi, perché tutti i finanziamenti regionali che ad oggi sono stati erogati all'ente non sono serviti per pagare gli stipendi, ma sono serviti per fare altre cose che noi non sappiamo. E questo è veramente diventato insopportabile. Vogliamo capire che cosa sta succedendo, il perché questa situazione si trascina ormai da cinque e più anni. Noi siamo vittima di questa situazione. Adesso, però, malgrado ciò, se ci sono le condizioni e la chiarezza per contribuire a far sì che si possa ripartire e risolvere però una volta per tutte queste problematiche, siamo a disposizione come Funzione Pubblica CGL, come laboratori e non ci tireremo indietro assolutissimamente.